Un'avventura che va oltre ogni immaginazione. Hai fatto un viaggio nel tempo. A ciascun viaggiatore viene assegnato il nome di una gemma. Tu sei Rubino. Sulla 5. Distruggerò la vostra diabolica macchina del tempo. Tre serate inferdibili. Con la saga firmata Kirsten Geer, Ruby Red. Il nostro destino è nelle nostre mani. Mercoledì, in prima serata. Il primo capitolo.